Da quando la Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso del Getty Museum contro la sentenza del Tribunale di Pesaro che ne disponeva il sequestro, riconoscendo, così una volta per tutte, che la statua dell'atleta di Fano fa parte del patrimonio culturale italiano che il Sindaco Seri suona alla Gran Cassa dell'Isipo, a più riprese e con diversi toni. Lo scopo è quello di spingere il più possibile verso il rientro della statua da Malibu, dove è esposta dagli anni 70 nel più breve tempo possibile. Dopo aver incassato anche l'appoggio del Mibac che ha annunciato un'iniziativa diplomatica culturale su questa vicenda, ora il primo cittadino coltiva il sogno di vederlo a Fano. Per questo al griu di Stringiamcia Coorte che sabato mattina alle 10 nella sala della Concordia del Comune ha convocato un pubblico incontro con tutti coloro che storicamente si sono occupati di questa vicenda e con tutti coloro che vorranno occuparsene. Scopo? Precorrere i tempi e avanzare proposte. Abbiamo ottenuto questo grande risultato con la sentenza definitiva che sancisce che l'Isipo debba rientrare in Italia. Non possiamo farci trovare impreparati, c'è stata una bella battaglia, quindi onde evitare di non farci trovare preparati. Il primo appello che abbiamo lanciato è quello di trovare la città unita su questo percorso. L'Iter con gli Stati Uniti è già partito per far eseguire la sentenza. Ovviamente abbiamo pensato di chiamare a raccolta tutta una serie di personalità, di soggetti, di associazioni, di istituzioni della città per muoverci all'unisono affinché non ci siano sorprese in futuro. Fare in modo che l'atleta di Fano, che diventa un'occasione straordinaria per il nostro territorio, per la nostra città, è una grande occasione di promozione, di riferimento, oltre ad avere un grande valore culturale. Per lei l'atleta vittorioso, come conosciuto universalmente, dovrebbe dimorare qui, dovrebbe essere qui, a Fano. Ormai il rapporto con la città è forte, è entrato in simbiosi, sono anni che se ne parla. Il suo luogo naturale è quello della città di Fano, tant'è che come amministrazione stiamo già lavorando per la sua ubicazione, proprio per essere pronti nel momento in cui si verifichi il rientro dell'atleta. Onde evitare, ripeto, come è capitato in altri contesti che magari rientri in Italia e vada in un'altra città. Penso che questo sia sotto gli occhi di tutti che la collocazione naturale dell'esipo dell'atleta di Fano sia proprio Fano.